Per gli appassionati del carnevale l'imbarazzo della scelta con le uscite dei carri a Foiano, Arezzo e Castiglionfibocchi per ricordare solo gli appuntamenti più tradizionali. Qui siamo a Foiano per il carnevale più antico d'Italia con la prima uscita dopo l'esordio rinviato per pioggia. Grazie a tutti. Ad Arezzo la novità del carnevale agrettino dell'Orciolaia nell'area dell'ex camposcuola di Via Fiorentina. Una scommessa risultata apprezzata. Infine chiudiamo con una piccola carrellata del carnevale dei figli di Bocco a Castiglionfibocchi. La scommessa risultata è la scommessa risultata. La scommessa risultata è la scommessa risultata. La scommessa risultata è la scommessa risultata. Grazie.